Paolo Venezia, 25enne barese, investito da un'auto pirata domenica scorsa e ancora in condizioni precarie. Alterna momenti di coscienza a stati di coma indotto. Resta in rianimazione con una prognosi ancora riservata. Non è ancora fuori pericolo dopo l'amputazione della gamba dovuta ad un'ischemia che stava immettendo tossine nel sangue. Il giovane rischiava così di morire per una grave infezione. Riportate Paolo in sala operatoria, bisogna amputare la gamba. È stato proprio il papà del 25enne, il chirurgo Piero Venezia, a prendere la sua offerta ma inevitabile decisione. Sono distrutto, le uniche parole che ha detto agli amici del figlio in sala d'attesa. Abbiamo dovuto staccare la gamba perché rischiava di morire. Al momento il papà chirurgo è l'unico a poter vedere il figlio. Solo ieri per la prima volta lo hanno visto la mamma e il fratello di 17 anni. Intanto da lunedì al policlinico è un via vai di amici di Paolo che hanno donato il sangue al giovane bisognoso di continue trasfusioni. Le condizioni del ragazzo, spiega il primario di chirurgia vascolare Guido Regina, cominciano leggermente a migliorare anche se siamo ben lontani da poter sciogliere la proniosi. Intanto è caccia al pirata della strada che a bordo, forse di un Opel Corsa o di un Opel Astra grigia, ha quasi ucciso il giovane. Di lui per ora non c'è traccia.